Tipicità dal 3 al 5 marzo porta i tanti colori della regione Marche al Fermo Forum. Ce ne sarà per tutti i gusti, con tanti personaggi dall'Italia e dall'estero, prestigiosi chef, degustazioni guidate, esperienze di manualità, situazioni da vivere intensamente, tra tradizione e proiezione nel futuro. Ben 120 gli eventi in programma ed oltre 200 le realtà da visitare, in stand ed aree dedicate. Tra le novità degli ultimi giorni, la presenza annunciata di Neri Marco Re, L'artista di Porto Sant'Elpidio parteciperà domenica 4 marzo all'incontro eppur si muove esperienze nel mondo dell'informazione e della comunicazione tra il dramma del sisma e le spinte alla rinascita e parlerà come ideatore del festival Risorgi Marche, che la scorsa estate ha portato migliaia di persone nelle zone simbolo del terremoto per assistere a concerti dei più importanti cantanti italiani. La sua esperienza è la testimonianza di un territorio che ha tanto da raccontare, attraverso i suoi paesaggi, la sua storia, la sua biodiversità, i suoi sapori. I visitatori di Tipicità le potranno scoprire tutte attraversando i tre padiglioni Wine & Food, Experience e Art & Genius. Tipicità apre le porte domani, sabato 3 marzo, alle ore 9.30. Cerimonia inaugurale prevista per le ore 15.30. La manifestazione, alla sua 26esima edizione, è organizzata dal Comune di Fermo con UbiBanca nel ruolo di Project Partner e con la collaborazione della Regione Marche, delle Università di Ancona, Camerino e Macerata, insieme a una utilità squadra di enti locali di tutta la Regione. Grazie a tutti i nostri amici.